ciao a tutti raga benvenuti nel mio nuovo video sono i vostri le colli siamo qui in driver 2 sempre qui siamo arrivati all'hotel dove essere scappati dalla polizia e adesso un po di riposo un po di riposo perché è morta 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 su canale però c'è qualcosa che non va cioè la porta della mia camera aperta è strana ma ci ha messo che è successo è tutto stato così veloce chi è? un agguato chi è questo qua? un agguato mi hanno fatto un agguato eh no eh lo devo prendere questo qua guarda non mi scappa ora e ti riprendo adesso e ti prendo tranquillo non mi scappi no 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 mi scappa mi hai fatto l'agguato io ti voglio prendere voglio vedere cosa hai da dire non ti prendo hai detto vieni qua vieni qua facciamo quattro chiacchiere in compagnia non mi ha fatto un agguato non mi ha fatto un agguato cioè era a casa mia ma stiamo scazzando no io ti sto incollato al culo ti sto incollato al culo no non mi scappi No no, manaccia, e chi va mi preghi, per la parte dell'altra, oh stiamo scazzando, no No, non mi scappi, non mi scappi, non mi scappi, non è inutile, ti sto incollato, basta seguire la fraccia rossa, tutto va bene, non mi voglio fregare, io so giocato tante di quelle volte che so che strada fai, perché di solito ricambio, quando perdo la partita, lui non fa lo stesso percorso ma cambia percorso, la partita successiva, quindi non voglio rischiare Allora, il capannone, non uno ma il secondo, vedi che me lo ricordo, ho giocato tante di quelle volte a driver 2 e ormai conosco tutti i suoi segreti Fatto, è rimasto incollato al culo a te Ho seguito fino a qua, al magazzino, anche i ragazzi magazzini, i fan, beh, una trappola era E' una cavolo di trappola Ma buongiorno, Salomon Kane Sì, sto seguendo più che Lenny, non è un problema tuo Ah, ecco chi è, Jericho Era Jericho quello che mi ha fatto la guata a casa, ma è lui il capo Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, mi piace, link in descrizione dei miei social, iscrivetevi al mio canale se l'avevo già fatto Ciao 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 Ciao